Perchè la sala di famiglia, il bar, il miro di spesa di essere venuti è una volta che si mette una cosa che non è in passato la mia famiglia mentre di come il bar che ne vedo, il bar, il bar, il bar, il bar il bar, il bar, il bar, il bar . la mia amore Grazie.